ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo della frenata questo è il secondo appuntamento di consigli di guida per principianti ed è un argomento abbastanza complicato da spiegare o da generalizzare perché purtroppo la frenata è condizionata da parecchi elementi che devono essere tenuti in considerazione per trovarne efficace appunto nelle esecuzioni di una frenata bisogna mettere in considerazione la tipologia di auto le condizioni meteo le gomme che si utilizzano il carico della macchina il peso della macchina lo stile di guida in che condizioni stiamo guidando cioè siamo in una gara siamo in un time trial siamo in un rally cross le condizioni appunto del tracciato come dicevo quindi se sterrato se asfalto ci sono tantissimi elementi da tenere in considerazione che purtroppo mi complicano la vita per spiegarvi come eseguire una frenata premesso che io vi parlo della mia esperienza personale quindi se pensate che dico bagianate non esitate a lasciare un commento tanto darò la colpa all'alcol di ieri sera ma questo è un altro discorso quindi in linea generale parliamo di una staccata cioè di una frenata abbastanza violenta per frenare l'auto nel minor tempo possibile e nello spazio minimo possibile per eseguire una buona frenata tecnicamente tutti lo dicono bisogna dare un pestone al pedale del freno e rilasciare progressivamente questo lo si fa quando si ha una periferica che vi facilita un po' la vita tipo la mia che simula la frenata idraulica e con dei pedali pedaliere della chicco è un po' complicato perché non essendoci tanta resistenza diventa complicato però in linea generale è pestone e si rilascia progressivamente il pedale del freno il che cosa succede non solo mi fa frenare l'auto ma rilasciando progressivamente il pedale e quindi con la sensibilità del mio piede riesco a sentire se sto per bloccare o meno quindi rilascio evito il bloccaggio delle ruote perché il bloccaggio delle ruote ragazzi è quello che vi porta fuori traiettoria perché perché l'auto va dritto cioè non si può girare già frenando non si può girare se blocchi le ruote ancora peggio e questo bloccaggio delle ruote dovrebbe quando funziona evitarlo l'abs cioè l'anti blockage system perché dico quando funziona perché nei simulatori secondo me non è efficace come efficace nella vita reale ma questo è un altro discorso ancora quindi il nostro obiettivo è quello di frenare forte rilasciare il pedale del freno e evitare il bloccaggio delle ruote favorendo così la continuità di rotolamento delle ruote davanti in modo tale che il trasferimento delle forze che viene da dietro verso avanti si faccia in modo naturale e che mi dia la possibilità comunque di poter girare per effettuare la mia curva in grandi linee è questa una frenata uno staccatone poi bisogna tenere in conto il calcolo dello spazio quando eseguire cioè ai 100 metri 50 ai 200 questo dipende anche dalla velocità se sono i 300 all'ora e ho una gt3 che ha un impianto frenante pauroso non vuol dire che in modo standard io possa frenare sempre ai 100 metri probabilmente dovrò prendermi 100 metri in più ovvio che se sono ai 180 all'ora magari potrò perché no provare a frenare i 75 metri quindi sono tante le condizioni che vengono a influenzare le mie scelte per eseguire una buona frenata attenzione ragazzi quindi la tecnica è praticamente sempre la stessa anche se io devo essere onesto uso tantissimo pompare sul freno perché perché simula un po l'abs a rallentatore il che mi fa riguadagnare grip sulle sulle ruote dando sempre continuità di rotolamento appunto delle ruote quindi il trasferimento di queste forze si fa come diceva in modo naturale e quindi questa linearità di trasferimento delle forze senza il bloccaggio le ruote mi dà la possibilità di poter impostare le mie curve è ovvio che tutto quello che vi sto dicendo si basa su comunque molta pratica perché il limite in pista lo trovate da soli facendo pratica ragazzi e avendo padronanza del vostro mezzo cioè se voi avete un'auto degli anni 60 non potete pretendere di frenare allo stesso modo che se avete una dtm moderna è ovvio ragazzi quindi bisogna tenere in conto tantissime cose la frenata è facile da fare ma è ultra complicata da gestire perché facilità cos'è io premo sul freno e questo l'azione che bisogna fare ma da gestire è diversa rilasciare pensare a non bloccare le ruote che macchina ho il peso il carico le condizioni la velocità sono tutti elementi che per poterli padroneggiare serve tantissima pratica la pratica alla base di tutto soprattutto sui simulatori in realtà bisogna avere un istruttore e tanto fegato perché fare delle staccate in realtà non è come succede qui nei nostri simulatori e qui non mi insegno nulla quindi io vi ho già detto due le due tecniche che utilizzo io pestone rilascio oppure pompaggio cioè nel senso inizio freno e poi inizio a pompare un attimino per fare riguadagnare grip sulle sulle mie gomme è ovvio che tutto questo deve essere eseguito comunque dall'impostazione di una traiettoria della curva che magari potrebbe essere argomento per un prossimo video io ragazzi mi fermerei qui perché altrimenti ci lanciamo in discorsi in cui bisognerebbe toccare il trasferimento di carico eccetera eccetera quindi tenete a mente che la pratica è la base di tutto per poter eseguire una buona frenata che lo scopo è quello di fare una staccata nel minor tempo e spazio possibile evitando assolutamente il bloccaggio delle ruote questo è quello che dovete tenere in mente se unite questo all'anticipo allo sguardo come vi ho detto nel primo video di questa serie io freno e già anticipo guardando per poter poi impostare la mia traiettoria e magari la traiettoria sarà il prossimo argomento hotel di questa miniserie io ragazzi vi ringrazio tantissimo per avermi seguito se il video vi è piaciuto non esitate a lasciarmi un pollice in su lasciatemi un commento se vi piace oppure se ci sono delle incoerenze in quello che dico o se non è abbastanza chiaro non esiterò a rispondervi ad approfondire insieme a voi se non l'avete fatto ragazzi iscrivetevi al canale tanto è gratuito ricordatevi di attivare la campanellina per essere notificati ogni qualvolta pubblico un video se vi fa piacere venitemi a seguire sulla pagina ufficiale di facebook di simdrivers.eu e perché no seguitemi anche su twitter noi ci vediamo al prossimo video da Fabrice è tutto ciao